Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su iDay nello shop perché non vi voglio spoilerare alcune cose della fattoria tra l'altro ho selezionato quella vecchia ma anche se è quella vecchia ho shoppato alcune cose che vedrete poi durante il video quindi non vi vorrei spoilerare la nuova fattoria perché si ragazzi e oggi ho shoppato un botto per andare a prendermi un sacco di cose e rendere un po' più carina la mia fattoria fatemi poi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate alla fine del video ovviamente lasciate un bel mi piace per altri video di iDay, mi raccomando ragazzuoli, per supportarlo al massimo iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi episodi ma soprattutto vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di iDay in particolar modo dopo il video di oggi che ho shoppato tantissimo ma soprattutto ci ho messo tantissimo a fare sto video ragazzi ci ho messo veramente veramente tanto più che altro a creare la nuova fattoria capire cosa shoppare, come mettere le cose, insomma spero vi piaccia inoltre ragazzi volevo annunciarvi una roba ho aperto un terzo canale qui su YouTube trovate il link in descrizione sarà un canale vlog dove porto principalmente video in cui mangio dovrebbe essere uscito proprio oggi il secondo video secondo video quindi mi raccomando ragazzuoli, link in descrizione per andarmi a seguire ma adesso partiamo con la shoppata infatti ragazzi adesso sarà partita una sorta di timelapse di un GG selvatico che sta lì a rifare sostanzialmente la fattoria stavo cercando di capire come mettere le cose stavo cercando di capire cosa shoppare perché comunque ci sono tanti oggetti di abbellimento che possono essere shoppati sui day ma in particolar modo volevo anche cercare di capire come sfruttare al meglio gli spazi e gli oggetti che già avevo a disposizione che infatti sono state poi la cosa che ho sostanzialmente messo per prime ora vi faccio soltanto vedere quello che c'è stato dietro tutto il lavoro che state per andare a vedere quindi GG che shoppa, GG che inizia a mettere delle cose è tutto molto sbrigativo e veloce ma dopo ovviamente vi andrò a descrivere tutta la fattoria e il perché ho fatto determinate cose e cosa voglio andare a fare nel futuro perché spoiler non sono riuscito a fare tutto quanto anzi diciamo che un bel po' di cose che avrei voluto shoppare e mettere nella fattoria non sono riuscito a farle o a shopparle più che altro perché prima volevo anche un vostro parere volevo anche un vostro consiglio e capire effettivamente cosa fare una cosa però che ho capito di iday è che costa molto di meno shoppare le cose utili per andare avanti nel gioco che gli oggetti di abbellimento e questa è una cosa che mi ha fatto troppo ridere mannaggia la miseria e anche un po' rosicare perché avrei voluto fare tutto un po' più carino in particolar modo ragazzi poi mi sono trovato in difficoltà con l'oro ma dopo vi spiegherò il perché ovviamente la fattoria non è che sia venuta spettacolare molte cose che avrei voluto fare non sono riuscito a farle però sicuramente rispetto a come l'avevo piazzata prima che era un po' casuale è molto meglio e adesso vi farò vedere meglio come è venuta ok regà vabbè lo avevate già visto dal video che stavate guardando con sotto la mia voce però questa qui è la mia nuova fattoria molte cose molte cose sono state veramente campate un po' lì per l'aria avrei preferito fare molte altre robe un po' più precise perderci un po' più di tempo ma ragazzi ho fatto veramente fatica a scioppare le cose in oro tant'è che l'oro l'ho praticamente prosciugato volevo fare tutto questo sentierino in pietra ma praticamente non mi bastava neanche l'oro che ho scioppato per quanto riguarda le gemme invece i vari abbellimenti in gemme si sono andato abbastanza tranquillo come vedete ho messo un sacco di pavimentazione chiamiamola così ho voluto fare una roba del genere perché almeno poi si poteva arrivare al porto andare a pescare e tutto quanto il sentiero in realtà è studiato in modo tale che la gente se vuole andare al porto passa di qua e va dritta lì se vuole passare agli animali passa prima i magnifici e poi si fa tutti i recinti degli animali fino ad arrivare giù 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 avrei voluto fare questa parte un po' più carina ma purtroppo i pollai hanno una misura diversa rispetto agli altri recinti molto probabilmente quando riuscirò anzi sapete che faccio lo faccio subito non avevo visto che potevo farlo scusate un attimino facciamolo subito modifica così in diretta ecco magari è un po' più carino così eh magari è un po' più carino così e il fieno lo mettiamo lì e qui creiamo spazio per qualcosa che poi ci potremmo andare a mettere dopo vediamo sì così già è un po' più carino in realtà va bene altra cosa che volevo fare ragazzi era continuare questa staccionata lungo tutto il pollaio per andarla a chiudere diciamo poi qui andare a chiudere lì su però costano tantissimo e in oro e infatti poi credo che mi andrò a concentrare soprattutto nelle cose che si shoppano in diamanti perché veramente gli abbellimenti in oro costano veramente troppo secondo me costano veramente tanto dopodiché ho cercato di mettere cose un po' più carine sulla strada cioè tipo sulla strada principale ho messo gli abbellimenti qui sarebbe tipo la zona svago tra virgolette con le panchine la piscinetta l'albero e tutte queste cose qui con anche gli uccellini dall'altra parte ho messo tipo tutti questi fiori tutte queste cose per abbellire e di qua c'è il cavallo quindi diciamo che nella parte degli animali si vede immediatamente il cavallo quindi la gente vede la fattoria e dice oddio il cavallo quei magnifici oddio quindi stanno benissimo gli animali bla 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 poi ci sono le pecore e tutto il resto il silo con i campi sono stati veramente la cosa più difficile perché praticamente sono dispari insomma è un casino mettere in ordine i campi ho cercato di fare il meglio sì qui sono tre in più però ho cercato di mettere quindi la strada che veniva più da sinistra per non dare troppo quell'effetto ottico troppo distorto cosa che in realtà poi è effettivamente ho messo poi sia il granaio che il... mi dimentico sempre come si chiama... il caseificio di qua perché sembrano un po' i due capannoni della fattoria quindi l'ho messo insieme vicino di qua e ovviamente la fonderia l'ho messa vicino alla nostra carissima grotta caverna miniera che mi sembrava la cosa un po' più giusta qui poi ragazzi io non voglio completare solo col sentiero in pietra io vorrei anche prendere in realtà non so se la ritrovo perché ci sono veramente un sacco di cose il muro in pietra cioè io vorrei mettere tutto muretto in pietra qui che va a suddividere la parte svago tra virgolette dalla parte lavorativa perché poi qui ovviamente ci sono tutte le cose per lavorare secondo me è una roba molto figa da fare però è da vedere ovviamente il sentiero in realtà lo volevo fare che andava pure fino alla macchina a cucire e al telaio però appunto poi non avevo più oro chiaramente poi la strada dovrebbe arrivare fino in fondo anche di là e via comunque questo ragazzi è un po' il motivo per cui quando andavo a fare io i video dove giudicavo le vostre fattorie dicevo raga ovviamente per fare delle belle fattorie bisogna o giocare da talmente tanto tempo che comunque si ha l'oro e le cose da spendere per abbellirla e comunque si hanno tanti pass alle spalle quindi diversi abbellimenti già di suo oppure bisogna scioppare tante ed è per quello che comunque poi molte fattorie non hanno nulla di carino ma tutto molto pratico tra virgolette quindi più praticità che bellezza però è ovvio raga perché se anch'io dopo aver scioppato 100 euro la cosa che sono riuscito a fare è più carina è questa e c'è un po' un problema di fondo è vero che c'è ancora 1000 diamanti però 400 circa le avevo già di mio quindi abbiamo altri 500 diamanti da spendere più o meno vabbè che poi le andrò a spendere tutti ai 999 però non è che sia chissà che anche perché come avete visto cioè raga guardate quasi tutto con l'oro si può prendere con i diamanti non c'è così tanta roba mannaggia ah beh no però qua sto tra le monete scusatemi ecco qui siamo tra i diamanti però comunque sarà una cosa che magari quelle dell'oro costano un po' di più e quindi mi sembrano più belle però ci sono cose molto più facili da utilizzare di là quindi non lo so ragazzi sarà un po' una roba da capire bello anche il padiglione ragazzi ci sono svariate cose che poi vorrei fare però per adesso non mi sento di avere abbastanza spazio per poterlo fare anche perché devo ancora togliere un sacco di alberi qui raga come vedete e tra l'altro qui ho messo tutti quei meli e quei ciliegi che sono appassiti e l'ho messi tutti qui in disparte quindi raga mi raccomando vi ricordo un bel mi piace fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate il codice creatore è anche ggyt tutto attaccato in un shop di iday fondamentale per supportarmi anche in tutti gli altri giochi supercell vi ricordo anche di passare sul mio nuovo terzo canale youtube trovate il link in descrizione mi raccomando ragazzuoli fondamentale anche lì per supportarmi iscrivetevi al canale se questo è fatto lasciate un bel mi piace ve l'ho già detto e ste cose per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzi